Allora, numeri e date di questa manifestazione che si svilupperà nell'arco di cinque mesi? Sì, cinque mesi da gennaio a maggio, in parte la Rassegna ha già avuto un suo inizio al Teatro delle Arti con lo spettacolo Scaccianoce che abbiamo fatto a Natale e adesso continua toccando quattro comuni della provincia di Salerno, che sono Salerno con tre teatri, il Centro Sociale, il Teatro delle Arti e il nuovo Teatro Chirelli, questo piccolo gioiellino che è nato qui a Salerno, poi abbiamo il Teatro Comunale di Nocera e il Teatro Comunale di Mercato Sanseverino e il Teatro della Providenza di Vallo della Lucana. Complessivamente sono oltre 25 manifestazioni che coinvolgono un'infinità di giovani, ci sarà anche la possibilità da parte di giovani danzatori, di giovani coreografi, di partecipare a questa enorme vetrina facendo vedere anche piccoli brani del loro... Stolino che lo spettacolo è sicuramente intrattenimento come sicuramente anche salvaguardia della tradizione, l'opera lirica ci rappresenta in tutto il mondo al massimo, però sicuramente lo spettacolo è anche evoluzione, innovazione, ricerca di nuovi codici. Noi crediamo che la danza, in particolare quella contemporanea, quella definita off, è quella che oggi più di ogni altra espressione risponde a questa esigenza, a questa richiesta. La danza ha numeri giovani, diciamo così, numeri giovani perché chi la fa è giovane, chi la va a vedere è giovane, i prezzi sono numeri giovani, nel senso che sono molto accessibili. Infatti l'abbonamento costerà? Beh l'abbonamento dipende, il prezzo chiaramente dipende se sono 3 o 4 o 5 spettacoli che sono nell'abbonamento, però mediamente chi acquista l'abbonamento lo paga 5 euro, addirittura a Salerno sono 11 spettacoli, 50 euro, insomma siamo, quindi costi assolutamente accessibili. E anche, voglio dire, i canali di promozione di questa manifestazione saranno quelli là più frequentati dai giovani, come i social network. Con un'attenzione anche per il sociale, infatti ci sarà uno spettacolo dedicato al Parkinson, con un'attenzione particolare. Beh, sì, fra l'altro insomma, fra gli artisti invitati, che ripeto, sono italiani, ma non solo, ci sono anche degli artisti che vengono dall'Albania, dal Belgio, dal Messico, c'è in particolare questa esperienza di un marchigiano, Danna, che presenta questo spettacolo con il padre, che è affetto purtroppo dal morbo di Parkinson, ed è proprio un modo per dare espressione, diciamo così, a quella che è la contemporaneità, la contemporaneità della nostra vita. Cioè non possiamo solo immaginare quello che è il passato o pensare di dover andare al teatro solamente per farsi due risate. Il teatro è anche riflessione? Assolutamente, assolutamente.